La responsabilità dei professionisti della sanità è stato il tema al centro di un convegno organizzato mercoledì 27 maggio 2015 ad Aosta dall'IPASVI, il collegio professionale degli infermieri di Aosta, con il patrocinio dell'assessorato regionale della sanità, salute e politiche sociali dell'azienda OSL della Valle d'Aosta, con il sostegno dell'ARCA, consulenza assicurativa. Un tema di scottante attualità che è stato scelto per consentire professionisti del settore di approfondire tutti i possibili elementi di criticità. L'evoluzione della domanda di salute del cittadino ha guidato i professionisti della salute nell'ambito dello sviluppo delle loro professioni, rivolgendo una grande attenzione al tema della responsabilità. Responsabilità dei professionisti non solo dell'operato, responsabilità dell'accesso ai servizi, responsabilità anche di eventuali disservizi. I professionisti sanitari pongono al centro dell'attenzione la persona e una squadra efficace, un team unito, superando la parcellizzazione degli aspetti professionali e rivolti a una risposta di salute globale integrata, sempre vincolata dal bisogno di salute delle persone che evolve velocemente, come è giusto che sia in una società moderna quale noi siamo. La conferenza Stato-Regioni sta rivedendo il quadro delle responsabilità per gli operatori della sanità, un processo di riforma molto atteso che porterà probabilmente anche a un ripensamento dei percorsi formativi. Sicuramente molte leggi hanno riconosciuto la responsabilità dell'infermiere, non abbiamo più un mansionario che soggiace alle nostre attività. Sicuramente di questi giorni è il comma 566 che di fatto genererà un cambiamento enorme all'interno della professione e anche nell'incontro con gli altri professionisti medici. Ed è in questi giorni la grande discussione perché se così come sicuramente è questo comma permette il riconoscimento dell'atto Stato-Regioni e quindi il riconoscimento di competenze specialistiche per i professionisti. A tutela dei professionisti della sanità sul fronte civile, penale e contabile esiste in ogni caso la copertura assicurativa che può mettere a riparo gli operatori nelle situazioni più esposte. Le coperture assicurative nella sanità che sono state rese obbligatorie dall'agosto 2014 per i liberi professionisti e diventate un ausilio indispensabile per i dipendenti pubblici possono supportare l'onere della liquidazione del danno e quindi della tutela del professionista ma prima ancora la tutela del cittadino. L'obbligo assicurativo nasce proprio a tutela della richiesta di risarcimento per un danno al cittadino per cui un sanitario ha svolto un'attività che è stata giudicata imperita o comunque che è stata giudicata cagionevole di danno. Quindi la copertura assicurativa solleva il professionista dal pagamento diretto ma tutela realmente il cittadino nel risarcimento del danno che ha subito a causa dell'attività sanitaria. In questo evento quindi in cui si affronta le problematiche della responsabilità professionale la parte assicurativa è un pochino la rete di salvataggio, il paracadute che permette al medico ma anche a tutte le figure professionali sanitarie coinvolte in questo convegno di avere una soluzione a tutela del loro patrimonio.